Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia di nuovo, benvenuti ancora, come sempre, ben ritrovati nella più disordinata biblioteca del mondo, quella in cui c'è nascosto un arsenale della Wehrmacht dimenticato dopo il passaggio del fronte da queste parti. Allora, signori, siamo seri, quest'oggi vi parlerò di un libro edito qualche anno fa dalla defunta Hobby & Work. Allora, siamo sinceri, lo so bene anche io che la Hobby & Work non ha mai prodotto, non ha mai pubblicato volumi di eccelsa qualità, però qualche lodevole eccezione c'è, ad esempio questa. Lupo vigliacco, Vita di Roberto Farinacci. Gli autori sono Sergio Vicini e Paolo Dossena. La vicenda umana e politica del fascista che voleva fare le scarpe al duce. Un lupo vigliacco, come lo definì Malaparte, i cui artigli segnarono in modo indelebile l'intero ventennio musulminiano. Giorgio Galli, nella prefazione, accenna che nel dare di Farinacci il più recente e aggiornato profilo, Vicini e Dossena si sono divisi i compiti. Il primo racconta l'ascesa del Ras di Cremona, dallo squadrismo fino all'impero. Quando perse una mano pescando con le bombe a mano nella Gotana, ebbe l'improntitudine di chiedere e ottenere la medaglia d'argento. Insomma, una bella medaglia d'argento, una bella medaglia al valore al merito pescatorio, diciamo così. Allora, dicevo, il secondo autore, ovvero sia Dossena, ne descrive invece la fase discendente fino alla sua fucilazione ad opera dei partigiani. Vita, morte e miracoli fatti e misfatti di Roberto Farinacci, Ras di Cremona e punta di diamante del regime fascista dalla marcia su Roma fino all'ingloriosa stagione di Salò. Falso eroe della prima guerra mondiale, era ferroviere, lo chiamavano capitante Toia ed ebbe l'improntitudine, anche in questo caso, di chiedere una decorazione per il suo indispensabile servizio, mentre i nostri soldati crepavano sul carso, ma lasciamo stare. Allora, dicevo, falso eroe della prima guerra mondiale, mediocre avvocato di provincia, libertino impenitente e antisemita furibondo. Roberto Farinacci, più che aderire al fascismo, lo usò disinvoltamente a fini di potere e arricchimento personale. Rozzo, volgare, vendicativo, Farinacci attraversa l'intero ventennio con una spregiudicatezza che lascia senza fiato. Lupo vigliacco, come ho detto prima, lo definì Curzio Malaparte, per sottolineare lo sconcertante groviglio di aggressività e piaggeria che caratterizzava il personaggio. Impreziosita da un'introduzione di Giorgio Galli, la biografia di Sergio Vicini e Paolo Dossena ripercorre le vicende di questo fascista perfetto. Colpiglio dei cronisti attenti al particolare minuto, all'aneddoto illuminante e al risvolto di costume. Quello che emerge dal lupo vigliacco non è soltanto il ritratto tutto tondo di un personaggio che riassunse in sé i tanti difetti e le poche virtù della classe dirigente in camicia nera, ma anche e forse soprattutto uno spaccato emblematico dell'italietta del regime, delle sue grottesche ambizioni, dei suoi discutibilissimi costumi e del suo apocalittico dissolvimento nell'inferno della seconda guerra mondiale. Allora, il libro forse non sarà un capolavoro? Credo, ma c'è da dire una cosa. Vicini e Dossena hanno fatto un buon lavoro documentale. Hanno raccontato molto bene il personaggio Roberto Faninacci, un uomo vile, servile, ma al contempo arrogante e violento, ricattatore del duce e al contempo ricattato dal duce. Un personaggio che per tutto il ventennio ha fatto quello che cazzo gli pareva, diciamoci, diciamo le cose come stavano, con una rete di affari, di intrallazzi, di corruzione, di ricatti. Praticamente uno degli uomini più potenti d'Italia, anche se confinato nel suo feudo di Cremona. Perché? Perché dopo il suo servizio, dopo il breve periodo in carica come segretario del Partito Nazionale Fascista, Faninacci fu spedito a calci in culo a Cremona e lasciato lì perché altrimenti avrebbe fatto veramente, come dire, i danni. Mussolini lo odiava, indubbiamente, ma ne aveva paura perché Mussolini sapeva che Farinacci aveva nelle mani i dossier di Leandro Arpinati e soprattutto i dossier di Amerigo Dumini che lo incolpavano dell'omicidio Matteotti e della corruzione. Farinacci, uno degli uomini più corrotti d'Italia, uno degli uomini più corrotti della storia. I suoi intrecci politico-affaristici sono narrati abbastanza bene da Dossena e Vicini, che spiegano come avesse creato un autentico impero a Cremona ed intorni, manovrando a piacere e a piacimento banche, banchieri, imprenditori, finanziatori, tutto pur di fare una valanga di soldi sulle spalle dei contribuenti. Farinacci, Farinacci, indiscutibilmente l'uomo più odiato e detestato dal regime, forse più ancora di Starace. Se Starace era odiato perché aveva pesantemente rotto i coglioni agli italiani, con i suoi fogli d'ordine, con le sue trovate, con le sue adunate, con il suo sabato fascista, che oggettivamente però era tutta roba di Mussolini, dicevo Farinacci, con le sue ruberie, con la sua arroganza, con la sua grettezza, con la sua spaventosa e, oserei dire, incredibile faccia da culo, diciamo com'è, incarnò pienamente, come dice l'introduzione, i pregi e i difetti della classe dirigente in camicia nera. Farinacci fu sicuramente, come dire, uno dei tanti esempi di ultra italiano che affollavano le file del regime fascista. Servile con i potenti, arrogante e prepotente con i deboli e con chi non poteva difendersi. Squadrista violentissimo, antisemita feroce ma con una fedelissima segretaria ebrea. Massone, odiato per questo da Giovanni Preziosi che era il ministro della razza della Repubblica di Salò. Nonostante il suo filo germanesimo era considerato da Goebbels un maldestro imbecille, perché ne combinava più di Carlo in Francia. Un uomo ignorante come pochi, odiato a morte dai fascisti, forse più ancora che non dagli antifascisti. Un personaggio che per vent'anni, per i vent'anni del regime fascista, ha veramente incarnato, come pochi altri, il prototipo del gerarca da barzelletta, pieno di amanti, arrogante, ma al contempo servile, come ho già detto, corrotto, corruttore, ladro, ricattato, ma al contempo anche ricattatore. Un uomo mediocre, meschino. Un uomo che, come ho già detto, quando partecipò alla campagna d'Etiopia, ebbe la sfacciataggine di chiedere e ottenere la medaglia d'argento perché aveva perso una mano lanciando una granata per pescare sulla Gotana. E questo la dice tutta sul personaggio. Ce ne sono da dire tante di Farinacci. Bottai lo detestava, Ciano lo detestava, Grandi non lo poteva vedere, Mussolini, come ho detto, lo trovava simpatico come un gatto attaccato ai testicoli con tutte e quattro le zampe, detta com'è. E oggettivamente Farinacci era un gatto attaccato ai testicoli con tutte e quattro le zampe, ma, ahimè, che dire, di personaggi così la storia d'Italia ne è piena. Un personaggio che veramente rappresenta molto bene la classe dirigente fascista. Dole dirlo, ma è così. Farinacci, la sua vita, la sua arroganza, la sua violenza, i suoi discutibili comportamenti, la sua corruzione. Se lo trovate recuperatelo su qualche bancarella perché è un libro che tutto sommato vale la pena di leggere per conoscere uno dei personaggi più esecrati, esecrabili, discussi e discutibili della storia d'Italia. Diciamoci la verità però, il buon Lupo Vigliacco non ha assolutamente inventato nulla. Anzi, ne sono arrivati in seguito anche di peggio, anche più ladri, e lo sapete bene. Però, che vi devo dire? Lupo Vigliacco, vita di Roberto Farinacci, di Sergio Vicini e Paolo Dossena. Una buona biografia, una lettura gradevole, un personaggio indubbiamente da conoscere per capire bene chi fosse quest'uomo, per capire in che ambiente si muoveva e per raccontare il regime fascista. Quindi, io vi saluto, vi auguro come sempre una buona serata e vi dico arrivederci alla mia prossima video recensione.